Seguendo la guida percorriamo i pochi chilometri di pianura che ci separano dalle colline e da Castelnuovo. Qui possiamo visitare le case che hanno visto vivere giorno per giorno uomini come San Giuseppe Caffasso, padrono dei carcerati, o il Beato Giuseppe Allamano, fondatore dei missionari della Consolata. In questi tranquilli paesini che oggi visitiamo come turisti, in queste case, su questi muri, si percepisce ancora oggi qualcosa di speciale. È una sensazione che anche un non credente può provare. La visita alle case dei Santi ci porta a Morialdo, sulla panoramica strada del Papa, da dove scorgiamo, nella nebbiolina del mattino, un imponente edificio religioso.